Ciao ragazzi, oggi siamo in prova a chiud'urno, sempre con la Kaisleif 62ml Gaia Blitz. Giornata abbastanza progiviva, tira un vento della madonna, è freddo, piove, l'acqua ovviamente, ne ha risentito della bioggia e non lo so se può essere solidificato il pesce, il pago stanziale è solo pesce, sono diversi pescini dentro, vado a muovere il nizzer del piazza Valkenia nella nostra popolazione in terza, in luce o in polinica, e questo è proprio che mi scende intorno a Taborani. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.